Ciao, sono Giulia, sono una commercialista e sul mio canale puoi trovare informazioni e strumenti utili per capire il mondo delle tasse e per gestire meglio la tua attività. Per non perderti nessun contenuto, iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanella. Nel video di oggi vediamo come funziona la tassazione in Italia se decidi di trasferirti all'estero. Per evitare di fare confusione ti spiego innanzitutto che cosa significa essere dal punto di vista fiscale residenti all'estero e dopo vediamo come funziona la tassazione nel momento in cui sei effettivamente residente all'estero. Essere residenti all'estero non significa semplicemente essere fisicamente usciti dal territorio dell'Italia e non significa nemmeno essere iscritti come residenti nel paese in cui ci si trasferisce. Questi due aspetti sono sicuramente molto importanti, ma non sono sufficienti. Per essere fiscalmente residenti al di fuori dell'Italia è necessario soddisfare contemporaneamente due condizioni, una condizione formale e una condizione sostanziale. La condizione formale è essere iscritti all'AIRE, ovvero l'anagrafe italiana dei residenti all'estero. Il requisito sostanziale invece è quello di essere effettivamente fisicamente al di fuori del territorio italiano. se questi due requisiti, l'iscrizione all'AIRE e la fuoriuscita effettiva dall'Italia si verificano per almeno 183 giorni in un anno solare, quindi dal primo gennaio al 31 dicembre, allora si è residenti all'estero per tutto l'anno solare, quindi dal primo gennaio al 31 dicembre. Se invece questi due requisiti si verificano ma per meno di 183 giorni, allora si è fiscalmente residenti in Italia per tutto l'anno. Facciamo due esempi, se ti trasferisci all'estero ad aprile e non torni più in Italia, allora i due requisiti si saranno verificati per più di 183 giorni, che è la metà dell'anno solare. Di conseguenza sarai fiscalmente residenti all'estero fin dal primo gennaio dell'anno in cui ti trasferisci, quindi anche per il periodo in cui in realtà eri ancora materialmente in Italia e non eri iscritto all'AIRE. Se invece ti trasferisci all'estero dopo la metà dell'anno, quindi ad esempio a luglio, a quel punto sarai residente in Italia dal punto di vista fiscale per tutto l'anno, fino al 31 dicembre, anche dopo la fuoriuscita dall'Italia. Questo meccanismo, che può sembrare un po' macchinoso, ha pochissime eccezioni, una delle quali è il meccanismo dello split year, di cui magari hai sentito parlare. Split year significa, appunto, suddividere l'anno in due parti, una prima e una dopo la data del trasferimento. Sulla base di questo meccanismo, il funzionamento della residenza fiscale è completamente diverso da quello che ti ho spiegato prima, perché anziché andare a vedere durante il periodo di imposta in quale paese sia rimasti per più di 183 giorni, si va proprio a dividere a metà l'anno e si dice, fino al giorno in cui eri in Italia sei residente in Italia, dal momento in cui fuoriesce dall'Italia sarai residente in un altro paese. Il meccanismo dello split year è comunque un meccanismo molto particolare, che può essere applicato soltanto nei trasferimenti da e verso la Svizzera e la Germania, che sono due paesi con cui l'Italia ha stipulato un accordo che prevede, appunto, l'utilizzo dello split year. Non si può invece mai estendere il criterio dello split year nel caso di trasferimenti da e verso altri paesi con i quali l'Italia non ha previsto questo particolare funzionamento. Adesso che abbiamo capito che cos'è la residenza fiscale, vediamo come funziona la tassazione in Italia dei redditi prodotti all'estero. La tassazione internazionale funziona in Italia sulla base di un principio che è applicato anche dalla maggior parte degli altri paesi del mondo. Il principio è questo, l'Italia tassa due tipologie di redditi, ovvero i redditi prodotti in Italia da chiunque, indipendentemente dalla residenza della persona che li produce e l'Italia tassa inoltre i redditi prodotti in qualunque paese del mondo dalle persone residenti in Italia. Applicando questo principio, quindi, capiamo innanzitutto che una volta che ti sei trasferito all'estero dovrai continuare a tassare in Italia eventuali redditi che continui a produrre in Italia. Ad esempio, se hai in Italia un immobile che affitti, magari la tua casa che hai messo in affitto proprio perché ti stai trasferendo all'estero, il reddito di quell'affitto, essendo prodotto in Italia, sarà sempre tassato in Italia, indipendentemente dalla tua residenza fiscale. Applicando questo principio generale al caso in cui ti trasferisci all'estero, vediamo innanzitutto che, anche dopo esserti trasferito, dovrai continuare a tassare in Italia tutti i redditi che produci in Italia. Ad esempio, se hai in Italia una casa che affitti, anche dopo esserti trasferito all'estero dovrai continuare a tassare in Italia il reddito che ricavi da quell'affitto. Nell'anno in cui ti trasferisci all'estero, però, è molto probabile che tu dovrai tassare in Italia altre tipologie di reddito. Ad esempio, se il tuo trasferimento avviene dopo che sono già trascorsi 183 giorni, come abbiamo visto, sarai residente in Italia fino alla fine dell'anno. Quindi, eventuali redditi che hai prodotto all'estero dal momento in cui ti sei trasferito in poi, dovranno comunque essere tassati in Italia fino al 31 dicembre dell'anno in cui ti sei trasferito. Quindi, se ad esempio dopo esserti trasferito all'estero sei stato assunto come dipendente, il reddito come dipendente dovrà essere tassato fino al 31 dicembre anche in Italia. Se invece ti sei trasferito all'estero prima di 183 giorni, ci potrebbero comunque essere dei redditi che hai prodotto in Italia prima del tuo trasferimento. Ad esempio, sempre un lavoro come dipendente ma fatto in Italia presso un datore di lavoro italiano. In quel caso, anche questo reddito dovrà essere tassato in Italia perché è prodotto in Italia. Quindi, anche se ti sei trasferito prima di 183 giorni, comunque tutti i redditi che hai prodotto in Italia prima di trasferirti saranno in ogni caso da tassare in Italia. Come ho detto prima, questo principio generale, quindi che l'Italia tassa tutti i redditi prodotti in Italia e tutti i redditi prodotti dai residenti in Italia, è applicato anche dalla maggior parte degli altri paesi. Questo può creare dei problemi di doppia imposizione, nel senso che uno stesso reddito può essere tassato da due paesi diversi sulla base della normativa fiscale di ciascuno dei due. Ad esempio, ritornando all'esempio che abbiamo fatto prima, se ti trasferisci all'estero a luglio, vai a lavorare in un altro paese e percepisci in quel paese un reddito come dipendente, quel reddito verrà tassato innanzitutto nel paese in cui lavori perché produci il reddito in quel paese e poi dovrà essere tassato in Italia perché sei fiscalmente residente in Italia. In questo modo, si verificherebbe appunto una doppia imposizione sullo stesso reddito da lavoro. Per evitare il problema della doppia imposizione, i paesi stipulano dei trattati, che si chiamano appunto convenzioni contro le doppie imposizioni, che servono proprio a regolare queste situazioni per evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte. È proprio in queste convenzioni che vengono regolati anche i meccanismi per stabilire la residenza fiscale delle persone quando si trasferiscono da un paese all'altro, meccanismi come quello dello split-ear di cui abbiamo parlato prima. Nelle convenzioni però, oltre al criterio della residenza fiscale, viene dato in realtà molto più spazio all'aspetto della tassazione dei redditi. Per cui, per ciascuna tipologia di redditi e poi al proprio interno sulla base di altre casistiche, viene stabilito in ciascun caso quale paese ha diritto a tassare un determinato reddito. Se è il paese di residenza della persona, se è il paese in cui viene tassato il reddito o entrambi. Queste convenzioni, essendo dei trattati internazionali, possono anche derogare alla normativa nazionale. Quindi, può essere che quei due principi generali che abbiamo visto prima, l'Italia tassa tutti i redditi dei residenti più tutti i redditi prodotti in Italia, anche questi principi possono subire delle deroghe sulla base appunto di questi trattati internazionali. Quindi, può darsi che, anche se tu sei residente in Italia e produci un reddito in un determinato paese, non dovrai tassare quel reddito in Italia perché la convenzione stabilisce che il reddito viene tassato soltanto nell'altro paese. Viceversa, produce un reddito in Italia, ma sei residente in un altro paese, la convenzione può stabilire che per quel determinato reddito lo tasserai soltanto nel tuo paese di residenza. In molti casi, però, le convenzioni danno di fatto la possibilità a entrambi i paesi, quello di residenza e quello di produzione del reddito, di tassare appunto lo stesso reddito. In questi casi, per evitare una duplicazione delle imposte, si applica un meccanismo chiamato del credito di imposta. Cosa significa? Torniamo all'esempio che abbiamo fatto prima. Ti trasferisci in un altro paese e viene assunto in quel paese come lavoratore dipendente dal mese di luglio. Quindi il paese in cui ti trasferisci tasserà il tuo reddito da lavoro dipendente perché lo produci in quel paese. Siccome però fino al 31 dicembre sei ancora fiscalmente residente in Italia, dovrai andare ad indicare lo stesso reddito anche nella dichiarazione dei redditi italiana, insieme ad eventuali altri redditi che hai prodotto in Italia o in altri paesi. A quel punto, nella dichiarazione dei redditi redditi italiana, potrai, dopo aver calcolato le imposte che devi pagare in Italia, andare a scomputare da queste imposte quelle che hai già pagato in un altro paese. In questo modo, di fatto, le imposte non verranno pagate due volte, quindi non ci sarà una doppia imposizione, ma la stessa imposta verrà pagata in parte in un paese e in parte nell'altra. In questo modo, i due paesi di residenza e di produzione del reddito si spartiscono di fatto le imposte che vengono applicate sullo stesso reddito. L'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni è abbastanza complessa perché, oltre ad essere regolati in modo diverso, redditi di tipo diverso, le convenzioni sono anche differenti l'una dall'altra perché sono dei trattati bilaterali tra paese e paese. E quindi, nonostante ci siano molti punti comuni a tutte le convenzioni, in realtà ciascuna ha poi delle regole proprie che devono essere seguite e che dipendono dalla contrattazione che è avvenuta fra i due paesi nel momento di stipula della convenzione e dal fatto che le convenzioni sono state stipulate in epoche anche molto diverse fra di loro. Il mio consiglio quindi è quello di affidarti ad un commercialista esperto in tematiche di tassazione internazionale una volta che ti sei trasferito all'estero o, ancora meglio, prima di trasferirti all'estero quando hai maturato questa decisione. È importante anche che una volta che ti sei trasferito identifichi nel paese in cui sei andato a vivere un consulente locale, esperto di tassazione internazionale e che ti possa aiutare a gestire questi aspetti, soprattutto se anche nel lungo termine continuerai ad avere dei redditi in Italia, come ad esempio nel caso che abbiamo fatto prima in cui dopo il tuo trasferimento metti in affitto la tua casa. Se questo video ti è piaciuto clicca like e iscriviti al canale per non perderti i prossimi video. Nella descrizione ti lascio anche i link al mio blog e ai miei canali social dove puoi trovare molti altri contenuti gratuiti. Ciao e a presto!